Tre importanti tavoli finalizzati alle questioni che sono in questo momento più interessanti per il sistema pesca siciliano. Prima di tutto la soluzione delle questioni relative alla guerra del pesce. Sono presenti qui delegazioni di molti paesi del Mediterraneo, in particolare una folta delegazione libica guidata dal general manager, dal direttore generale di Tripoli e una partecipazione, questo mi pare molto importante, anche da parte del porto di Bengasi e di Tobruk. Questo è un elemento che fa capire che l'osservatore della pesca del Mediterraneo è un luogo di pace, prima di tutto un luogo di incontro, un luogo per determinare e tentare di trovare soluzioni per eliminare le problematiche che sono relative alla pesca in alto mare, in acque internazionali e soprattutto per tutelare i nostri pescatori. L'altra importante questione che verrà affrontata oggi nei lavori dell'osservatorio è quella relativa al porto canale di Mazzara del Vallo, quindi all'escavazione. Sarà presente l'assessore Croce che sarà chiamato a dare delle risposte concrete relativamente allo sversamento del materiale di dragaggio del porto. Noi ci auguriamo che questi lavori vengano avviati presto, abbiamo avviato interlocuzioni con tutti gli attori, quindi il Ministero dell'Ambiente, i competenti assessorati regionali. Attendiamo immediatamente risposte, il livello della lotta del coordinamento della filiera ittica Mazzara non si abbassa, vigileremo fin quando non saranno date risposte concrete. L'osservatorio ovviamente produrrà anche elementi aggiuntivi di valore, cioè dire quello dell'opportunità di valorizzare e di impiegare al meglio i materiali del dragaggio, quindi di riciclarli, di utilizzarli anche per altre finalità, anche a fini produttivi. E soprattutto questo mi pare un bel segnale per rispettare l'ambiente, per tutelare l'ambiente costiero, che sta molto a cuore soprattutto ai tanti ricercatori e ai tanti attori dell'osservatorio. Poi c'è una parte assai significativa che è quella dell'accesso al credito, un tavolo tecnico con tutto il sistema bancario, l'ABI, le maggiori banche, l'ISMEA, il medio credito centrale, tutti i soggetti che sono chiamati a dare delle risposte concrete alle difficoltà di accesso al credito degli operatori di tutta la filiera ittica. Le novità che vi portano sono queste. Noi abbiamo espresso un parere come Dipartimento Ambiente in cui ponevamo un problema di tipo ambientalistico sull'escavazione e soprattutto sul conferimento dei materiali dragati. Il Dipartimento Ambiente aveva posto un problema in cui questo materiale, l'intero materiale, dovesse andare tutto a discarica e questo chiaramente comporta un enorme aggravio di costi. Invece stiamo cercando una soluzione che è quella che ci riconduce a quelle che erano le analisi di caratterizzazione fatte nel 2014, ovvero che la parte che si è inquinata vada in discarica e la parte invece non inquinata possa essere oggetto della realizzazione della cassa di colmata. Mi pare che sulla vicenda più spinosa che in questo momento riguarda la storia del Porto Canale, del Porto di Mazzara del Vallo, l'assessore Croce abbia in qualche modo riaperto la partita dopo quel parere un poco superficiale. E quindi speriamo che questa storia abbia una soluzione a breve che possa consentire, l'assessore si è anche spinto nel dire che entro l'estate possano finalmente partire i lavori, come è noto già la gara è stata pure espletata. Quindi questo è un problema che è in via di soluzione, contemporaneamente si sta risolvendo il problema dell'illuminazione, per cui è stato già finanziato il progetto di rifacimento dell'impianto di illuminazione e questo consentirà di rendere operativo il Porto anche nelle ore notturne. Detto questo è chiaro che l'osservatorio che oggi si tiene a Mazzara vuole in qualche modo aprire una riflessione rispetto a questo nuovo anno, anche perché è l'anno in cui stanno partendo i programmi comunitari della pesca, abbiamo già messo a bando oltre 60 milioni di euro, ci sono alcuni strumenti che bisogna attivare, penso agli strumenti finanziari, c'è la possibilità di accesso delle imprese al credito per sostenere e contribuire a cofinanziare gli interventi che vengono chiesti per investimenti. Ci sono alcuni aspetti che riguardano le politiche di cooperazione internazionale, la presenza di delegazioni di paesi del Mediterraneo, perché avremo sempre di più, anche a causa dell'istabilità che si è generata negli ultimi anni in questi paesi, la necessità di stabilizzare questi rapporti con regole condivise. Insomma, il lavoro che si sta facendo è un lavoro per dire che la Sicilia non è un luogo dove aspettiamo di sapere cosa si decide a Roma. Ecco, vogliamo contribuire a determinare la decisione di Roma portando dentro conoscenza, competenze e proposte. Questa prima sessione straordinaria dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo che si tiene in questa sede prestigiosa del Civic Center affronterà le tematiche più impellenti che riguardano la pesca siciliana. Una folta presenza di delegati sia dei paesi viciniori, sia di ricercatori e scienziati della pesca aderenti all'Osservatorio permetterà di affrontare alcune tematiche che sono rimaste sul tappeto. In particolare è principalmente la questione che riguarda il dragaggio del porto di Mazzara del Vallo che ormai si trascina tra una serie di problemi non risolti e che potrebbe essere affrontata nell'ottica dell'economia circolare e della Blue Economy che sono la base del lavoro dell'Osservatorio. Cioè con un riciclaggio dei rifiuti, dei residui, anche del dragaggio. In questo sicuramente l'apporto dei ricercatori, degli scienziati, dell'Osservatorio potrà dare alcuni utili suggerimenti. Ma questa sessione si pone anche il problema di dare un complessivo giudizio sull'attività sviluppata nel corso di dieci anni dall'Osservatorio. Molte delle questioni che abbiamo posto sul tappeto alla regione siciliana nel corso degli anni attraverso i sette volumi del rapporto annuale sulla pesca cominciano finalmente a diventare patrimonio della politica siciliana. Mi riferisco per esempio ai recenti banti che sono stati emanati dalla regione e che riguardano l'innovazione tecnologica, riguardano il risparmio energetico e i cambiamenti climatici. Sono già dei primi passi che vanno nella direzione della Blue Economy che più volte abbiamo sottolineato nel corso di questi anni.